Apriamo una finestra sulla scuola e in particolare su un argomento che ci sta molto a cuore, l'insegnamento della religione cattolica. Per questo motivo abbiamo voluto sentire una persona autorevole che ritroviamo con piacere. È il professor Nicolai Incampo, esperto delle questioni relative all'IRC, insegnante di religione cattolica, ha pubblicato Bade Mecum dell'insegnante di religione, è collaboratore diocesano e regionale dell'ufficio IRC della Basilicata e scrive per diverse riviste cattoliche. Bentrovato prof. Buongiorno, grazie dell'invito. Grazie a lei come sempre è una gioia. Allora, nel periodo di emergenza sanitaria, mentre tante famiglie erano attorno ad una tavola non solo per nutrirsi ma anche per discutere su come sopravvivere in una società bloccata dal virus, il professore, quindi lei, era seduto al tavolo di discussione della CEI e MIUR per difendere i diritti dell'insegnante di religione. Il motivo di questa discussione è il famigerato concorso IRC, una lotta, se vogliamo, per la giustizia. Sono passati diversi anni dall'ultimo concorso e si volevano mettere nel pentolone precari e neolaureati. Il professore Incampo l'ha definito, in una precedente intervista, un concorso disumano. Professore, perché? Sì, non solo disumano, ma il percorso concorsuale è anche cattivo. Nel senso, vorrei spiegare così a chi ci ascolta, che noi nel 2017 abbiamo corso un grosso rischio. Il rischio era quello di avere un concorso che non tenesse conto dell'idoneità. Noi, il nostro è un insegnamento tipico, dove la forza del nostro insegnamento è l'idoneità. Io vorrei ricordare a chi ci ascolta che noi andremo a scuola in virtù dell'idoneità. Cioè, l'idoneità per noi, ma quando dico per noi voglio dire per la giurisprudenza, per lo Stato, per tutti, l'idoneità è abilitazione. È stata abilitazione per il pagamento degli insegnanti, è stata abilitazione per il primo concorso degli insegnanti di religione e adesso non è più abilitazione, perché a qualcuno non piace che l'idoneità sia abilitazione. Io ho partecipato alle trattative del concorso 2017 e a fine dicembre mi alzai, non firmai quell'accordo perché vedevo proprio disumano e se volete anticostituzionale che si potesse fare un concorso dove non veniva riconosciuta all'insegnante di religione l'idoneità. Per capirci, la ricaduta sarebbe stata molto molto negativa. Prima di tutto perché noi creavamo un ambiente dove lo Stato poteva parlare non più di religione cattolica, ma di storia delle religioni. La seconda ricaduta era proprio tecnica sull'insegnante. Oggi l'insegnante che sta nel famoso 30% che è nominato per incarico annuale, dopo 4 anni di servizio gode dei benefici degli insegnanti di ruolo. Ebbene con questa procedura concorsuale gli insegnanti sarebbero diventati tutti i sopprendi annuali e avrebbero perso dei benefici, tutti i benefici. Allora io nel 2017 feci saltare questo accordo. La cosa più disumana è stata che poi nella legge finanziaria del 2017 esce come un fungo il concorso degli insegnanti di religione ed esce sempre con l'obiettivo primario di cacciare, uso un verbo bruttissimo, ma la fotografia è questa, di cacciare dalla scuola gli insegnanti di religione con più anni di servizio. La cosa è disumana e io mi sono battuto e sto continuando a lavorare per far capire a chi di dovere che non è così. Prima di tutto non si può mandare a casa una classe docente che ha lavorato per tantissimi anni e ha servito la chiesa e la scuola, adesso viene sbattuto fuori. Quindi abbiamo ripercorso in sintesi un po' le tappe, professore, per arrivare ad oggi un momento in cui ci sono validi motivi per cui sperare. Io in fuori onda l'ho chiamata guerriero perché è stato in prima linea anche a combattere per questo. In realtà i docenti, gli insegnanti di religione non vogliono privilegi, non li hanno mai voluti, hanno voluto soltanto ciò che gli aspettava fino a quel momento. Un concorso sì, ma tenendo presente dei percorsi fatti, degli anni di precariato e la famosa idoneità, quella di cui parlava prima, l'abilitazione, che come in qualsiasi classe di concorso è valida. Io volevo dire proprio a proposito di questa bella fotografia che hai fatto, io volevo dire che con la buona scuola viene su un nuovo modo di verificare i docenti ed è quella, la buona scuola dice con una chiarezza unica che gli insegnanti abilitati diventano di ruolo con un percorso preciso. Noi quello che abbiamo chiesto non è un privilegio, ma è di seguire questa via concorsuale voluta dalla buona scuola. Ecco perché non riusciamo a capire la cattiveria di alcune persone, di alcuni sindacati che continuano a chiedere un concorso ordinario dove si dovrà verificare anche il contenuto di religione, quindi mettendo sotto i piedi l'idoneità e soprattutto non valorizzando gli anni di servizio. Noi abbiamo sempre chiesto e continueremo a chiedere e oggi grazie a Dio approfitto di questa intervista, oltre a ringraziarti, ma per dire che stiamo riuscendo nel miracolo, cioè stiamo riuscendo a far capire a chi di dovere che prima di tutto un concorso. In questo momento gli insegnanti di religione non l'hanno chiesto, perché in questo momento non è la priorità, non è il concorso, ma è il tenere l'ora di religione a scuola. Io ho sempre detto e ho sempre scritto che più forte è l'ora di religione e più forte è l'insegnante, non è il contrario. Noi non dobbiamo vedere il concorso come un salvadanaio, come chiedere soldi agli insegnanti per fare i corsi di aggiornamento, no, noi dobbiamo vedere il concorso per l'immissione ruolo. Vorrevo ricordare che gli insegnanti di religione non possono fare un concorso per l'abilitazione perché sono già abilitati, ma devono fare un concorso per l'immissione ruolo, come è avvenuto per il primo concorso. Noi non riusciamo a capire proprio questa cattiveria, ripeto, questa cattiveria di chi non vuole riconoscere l'idoneità, perché il problema si pone solo su questo l'idoneità. In ultimo volevo dire che l'immissione in ruolo non riguarda chissà quanti docenti, ma riguarda 3.800 docenti. Di questi 3.800 docenti i due terzi sono in Lombardia e un terzo nel resto dell'Italia. La Lombardia, per quello che tutti sappiamo sta vivendo, ha chiesto di non avere questo concorso in questo momento perché in ogni casa c'è o si piange un morto, o si piange un familiare che non sta bene, o si piange un familiare, ma in questo momento proprio di pandemia, in questo momento di sofferenza, gli insegnanti di religione vogliono garantire l'ora di religione. Io approfitto ancora di questa intervista per ringraziare Don Gian Battista Roda, che è il direttore dell'ufficio scolastico diocesana di Milano, il quale ha chiesto con una documentazione ben precisa e ha ottenuto dall'ufficio scolastico regionale la dichiarazione che l'organizzazione dell'ora di religione, o meglio l'organizzazione dell'anno scolastico prossimo, avverrà tenendo presente che la religione cattolica è una disciplina come gli altri. Questo è il vero motivo, perché a settembre noi troviamo già dei presidi sceriffi che vogliono immarginare l'ora di religione e voi immaginate una domanda che ho ricevuto in questi giorni sul sito Cultura Cattolica, dove un preside addirittura non vuole mettere l'ora di religione nell'orario perché non ha i locali per l'attività alternativa. Io a questo preside lo manderei a casa perché l'attività alternativa segue un percorso diverso da quella dell'ora di religione. Lui ha l'obbligo di assicurare l'ora di religione. Ora con quella circolare che siamo riusciti ad avere dall'ufficio scolastico regionale, sicuramente la scuola, il direttore diocesano di quella diocesi potrà puntare i piedi e dire rispettiamo la norma, perché la norma dice che religione è come tutti gli altri. Io voglio dire che questo è il lavoro che stiamo facendo, proteggere, garantire, mettere in sicurezza in questo periodo l'ora di religione. Gli insegnanti di religione non vogliono il concorso. Io ho dimostrato pure con una statistica che il 93%, dico il 93% degli insegnanti di religione hanno più di tre anni di servizio. Questa legge vorrebbe remettere in ruolo chi ha meno di tre anni di servizio. Voi immaginate la disparità, la cattiveria, perché io dico che è una norma disumana. Poi non ho capito questo desiderio di mettere gli insegnanti di religione in ruolo. È una cosa mai successa nel mondo. Una categoria di insegnanti non vuole ruolo. Chissà perché qualcuno vuole ruolo per fargli del male. Ecco perché dico che andiamo l'ora di religione. Si può pensare alla fine che sia anche e soprattutto una questione politica e quindi l'interesse di qualcuno. Ovviamente dopo questa sua sottolineatura viene fuori che comunque la materia, la religione è ancora molto sottovalutata. In realtà gli insegnanti di religione dovrebbero essere considerati pilastri della scuola, visti i temi che affrontano la solidità dei principi da cui partono e la coerenza di ciò che trasmettono ai ragazzi. Quindi va sottolineata l'importanza di questa materia, di questa ora di lezione a scuola, soprattutto per i giovani e quindi per il futuro che ci aspetta. Prof, il pericolo... No, io approfitto per dire, proprio perché è vero quello che hai detto, io approfitto per dire che gli insegnanti di religione tutti gli anni subiscono un referendum e tutti gli anni più del 90% chiede di avvalersi di questa disciplina. Anche se questa disciplina viene messa alla prima e ultima ora, io provo e dimostrerò al momento opportuno che molti ragazzi, pur avendo non scelto religione, stanno durante l'ora di religione anche se questo, ripeti, è all'ultima ora o la prima ora. Un motivo ci sarà. Secondo me questi insegnanti andrebbero premiati, non mandati a casa. Esatto, giustissimo. Comunque il pericolo pare sia passato, almeno per il momento, quindi diamo voce anche a noi a questa classe di docenti che purtroppo deve ancora lottare per farsi, insomma, per farsi avanti, per dimostrare che conta e che vale. Professore, grazie. È sempre poco il tempo a disposizione, ma insomma una promessa ce la facciamo. Magari ci ritroviamo con il nuovo anno televisivo, la nuova stagione. Grazie, è un piacere per me. Grazie a voi. Grazie a lei per quello che fa. Grazie.